Quel famoso video di sparring tra Shavka e Ian Gary, una clip da 40 secondi, un paio di clip da 40 secondi in cui non si vede praticamente nulla ma come spesso accade quando qualcuno si è allenato insieme se ne parla tantissimo, se ne continua a parlare e Shavka ha avuto qualcosa da dire perché si vede solo una parte di quello che è successo in quella sessione specifica almeno secondo le parole del Kazako. Ecco qui quello che ha avuto da dire a Levi e Luani Show perché può essere molto interessante, premesso, qualsiasi fighter top vi dirà che lo sparring è sparring e non è un match non è la stessa cosa e lo sanno entrambi ovviamente, però è interessante sapere anche questo retroscena che Shavka dice che c'è, che esiste Sua moglie mi aveva chiesto se poteva filmare quel video di sparring che sappiamo che la moglie di Ian Gary è sua moglie ma anche sua manager, lo segue ovunque sappiamo anche quanto si è stata criticata nel tempo, anche perché comunque pure lei come Ian Gary non si fa problema a fare trash talking e ovviamente è un qualcosa che invece dovrebbe rimanere tra fighter e tra atleti in generale perché secondo me non è giusto e non ha senso che parte dell'entourage cioè un conto e magari qualche schermaglia tra team però che parte dell'entourage faccia proprio dichiarazioni pubbliche dissando fighter, avversari eccetera non ha senso ciò nonostante appunto lei ha chiesto di poter filmare quel momento di sparring a suo tempo ma non mi hanno mai chiesto se potevano pubblicarlo o no mi chiedo come mai non abbiano pubblicato tutto quel video di sparring, perché non abbiano pubblicato anche l'altra parte dello sparring che cosa vedremmo chiedere se pubblicassero anche l'altra parte, l'altro pezzo dello sparring qui la traduzione ovviamente a Sharkhat durante il Rio de Janeiro Show sempre vedremmo Ian Gary cedere oh wow sottomissione 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 sì, e dice tre altre una choc allora se Sharkhat dice questa cosa è davvero loro hanno il video cioè è molto probabile che questa cosa sia successa si parla di anni fa perché Ian Gary si allenava ancora alla Keith Cliff quando ha iniziato a sua carriera in UFC di fatto e come dicevamo prima conta il giusto nel senso che lo sparring può dire qualcosa e può dare fiducia a uno piuttosto che all'altro fighter quindi lo sparring può essere effettivamente importante anche a livello mentale ma lo sparring non è un match perché non si va alla stessa intensità perché non c'è lo stesso mindset perché bisogna vedere anche durante quell'allenamento quella giornata che cosa è stato fatto quindi vuol dire fino a un certo punto e Ian Gary stesso in realtà ha risposto a Sharkhat e ha detto se Sharkhat pensa davvero che quello che succederà all'interno dell'ottagono è quello che è successo quando abbiamo fatto sparring allora si sbaglia e anche di grosso ed è vero io credo che nessuno dei due due fighter così forti così intelligenti e imbattuti non andranno mai a fare ragionamenti di quel tipo Sharkhat entra nella gabbia entra nell'ottagono per finalizzarti chiunque tu sia che ti abbia già visto prima oppure no Ian Gary entra nell'ottagono per batterti anche lui stesso discorso sono troppo intelligenti per fare un errore di questo tipo però è chiaro che come è successo ad esempio a suo tempo con Cody Garbian TJ Dillashow è ovvio che generi molte molte polemiche molte schermaglie questo discorso qui specie visto che poi Sharkhat dice anche sì sì ma hanno chiesto se potevano filmare ma nessuno mi ha chiesto guarda posso pubblicare o no e ovviamente questo anche non non aiuta però scopriamo tutto all'interno dell'ottagono con un match che secondo me è tra i migliori che la UFC potesse offrire grazie a tutti grazie a tutti